qui c'è un po di pancali che potrebbero essere comodi per un'idea che ho, vediamo se ve ne faccio anche partecipi, ora li ripulisco, ecco ho levato tutta la plastica le misure sono quelle che mi servo, un vecchio pancali di legno niente di particolare però è utile e ho ottenuto un po di assi che mi possono far comodo, ora facciamo un taglio a 45 gradi siccome è un legno grezzo può essere fatto tranquillamente anche con una sega a mano, quindi non ci sono grossi problemi se il taglio non è proprio perfetto, è proprio nello stile, ecco la misura conviene prenderla sempre dalla vostra, dal vostro lavoro, dalla vostra tela in quanto non sempre le misure sono esatte, specialmente se avete fatto da voi il telaio per cui ci sta che un millimetro o due vi possa scappare, invece preso direttamente sul vostro lavoro non avrete problemi. Bene, ora c'è la parte diciamo di incollaggio della nostra cordina, procuratevi un piano dove poter lavorare, un po' di morsetti, più ne avete meglio è, colla vinilica, un pennello che estende la colla e poi un po' di pazienza per allineare e mettere in squadro il nostro bellissimo lavoro. Quindi se ci avete anche una squadra vi può aiutare appunto a trovare, quindi con questa mettete proprio a posto la vostra cordiscia. Non vi preoccupate se c'è qualche mezzo di differenza, tanto vedrete che si riesce poi a ruffiare tutto. Questa è una cordiscia molto particolare, come vedete è fatta con materiale non di recupero, proprio di scarto. se avete una puntatrice può essere vi aiuto in modo che vi tiene fermo l'angolo che ci mettete e poi il vostro maschile, controlliamo, ok. Beh, l'incollaggio generale è stato fatto, è anche abbastanza preciso, tutto sommato. Una volta che abbiamo incollato il nostro telave nella nostra cornice, praticamente ci conviene fare una cosa, prendere il nostro il nostro cuore, provarlo, lo prendiamo, lo prendiamo, lo proviamo, se abbiamo preso bene le misure, spero di sì, ok, a posto. Quindi, adesso dobbiamo fare in modo che il quadro si mantenga, perché soltanto con la fornice che abbiamo fatto avremo difficoltà, dovremmo inventarci chiodi di traverso, come non sarebbe un bel lavoro. Allora, prendiamo quattro listelli recuperati anche questi qui, oppure insomma qualcosa, se non ce l'avete potete anche comprarlo, e comunque sono quattro listelli dello spessore che volete, basta che siano almeno uguali o superiori a quello del telaio del quadro e poi lo mettiamo a contornare, diciamo così, la parte interna, così il quadro aveva un modo di poterlo fermare. Quindi, una volta fatto questo, prendiamo la misura, dove andrà il nostro schistellino, ecco. E quindi, potremo levare il tutto, potremo appunto levare il tutto e incollando i listelli conclude il lavoro di assemblaggio. Beh, colla, un paio di chiodi per fermare tutto, e vai. Grazie. 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 Adesso praticamente la cornice è pronta. basta darci una ricetta, basta darci una levigata e questi buchi o li vogliamo chiudere, in qualche modo, questi buchi di chiodi bancali, o se no li possiamo anche lasciare perché fanno parte proprio dell'idea di questo lavoro. Come si vede dietro ci sono questi pistelli che sono stati fatti apposta per incastrarci la cornice. e il lavoro è finito. Poi, adesso comunque andiamo avanti, do una pulita con carta vetro grossa, e poi ho un po' di mordente, lo lasciamo grezzo. Vediamo un po' com'è questo legno, perché è un certo legno di gran carletta, un pino, un po' di scarsissimo, ma a noi piace così questa volta. Ecco, questa è la nostra cornice. Adesso non resta che taglio una bioniciata se vogliamo, se non vi piacciono questi fori, come detto prima, basta prendere un po' di segatura e colla, e ce la mettete dentro, così una volta asciugato si vederà sì no. Partono prima naturalmente di darci il colore, quindi ecco, vedete che un po' di segatura mettete prima la colla, un po' di segatura e poi ce la schiacciate sopra, e alla fine sembreranno quasi dei nodi, quindi non è un problema grosso. A me onestamente l'idea di questi chiodi non dispiace, quindi li lascerò, diciamo, a vista. Se me la fai la posta ce n'è uno per ogni lato, quindi proprio una simmetria quasi ideale. Questa lisciata è ripulita soltanto, diciamo, le parti a vista, quindi i lati interni, questi esterni, naturalmente la facciata. Per quanto riguarda il colore, ho deciso di non usare il mordente, ho fatto delle prove su dei pezzi che mi erano avanzati, e effettivamente non è che mi piaccia tanto, perché il quadro è già un po' scuro di suo. Per dargli il mordente sopra avrebbe scurito ancora di più il tutto e quindi l'avrebbe incupito invece di dargli spaziosità, un po' di diariosità, ecco. Allora ho deciso di fare, di dargli un po' di, diciamo, di trasparente, per virgolette. Allora ho preparato questo contenitore, come vedete, che ho messo un po' di acqua ragia e adesso olio di lino cotto, quello che si usa per i seramenti. Diciamo che facciamo due parti di diluente e una parte di olio di lino cotto. Mescoliamo abbastanza bene, perché non sono molto facili da diluire senza girare. E adesso gli diamo una passata. Prenderà questo colore leggermente ambrato, che al momento mi piace di più per il mio quadro. Farsi da essere cornici a volte c'è anche questo piccolo vantaggio, cioè uno si sceglie il colore della propria cornice in base al quadro che ha preparato. E' vero che si può fare la stessa cosa anche andando dal cornice. Ah, io dico, guarda, voglio una cornice così e così. Però, in questo modo voi potete veramente adattarla, come il cavolo di quale, al vostro dipinto. Questa cornice, avete visto, è stata fatta totalmente con pezzi di recupero. Questo è un semplice pianale dove sopra c'erano mattoni, quindi molto spartato, un legno veramente modestissimo. La mia attenzione era proprio questa, usare qualche cosa di grezzo, di ruvido, che si adattasse anche un po' al mio quadro. Anche nella carteggiatura sono certo usato carta sottile, ho preso una carta grossa che lascia tutti i segni. Ma è giusto, per giocare un po' a fare il falegname, a fare il cornice. Fa parte, diciamo così, del bagaglio, del bravo, del bravo apprendista stregone. Non c'è da darci tante mani, naturalmente. Basta la sola mano e poi, una volta che è stata data il consiglio, mi prendevo uno straccio e togliere le cerezza di danose, in modo che non ci saranno parti più lucide, parti più gommose. Una volta che avete finito di stendere il vostro culo di vino, potete prendere uno straccio e, diciamo così, lisciarlo. Possibilmente uno straccio che non lascia peli, sennò vi troverete una sorta di peluche, invece che una colmice. Adesso non resta che lasciarlo asciugare tranquillamente un paio d'ore e poi sarà pronto per essere utilizzato, quindi montarci il quadro sopra. metterci l'attaccaglia al punto giusto. Quando mettete l'attaccaglia, non vi conviene mai prendere la misura e poi fare il centro, perché sicuramente 9 su 10 sbaglierebbe. La cosa più utile da fare è pesarlo il quadro, diciamolo così, quindi praticamente una volta che ce lo avete lo fate bilanciare con un chiotto, un cacciavite, un coltello, quello che volete. Guarda, c'ho qui, c'ho il ventilatore che lo sposto. Comunque ecco, lo mettete così, in bilancia, vabbè, adesso c'è il ventilatore che fa il suo lavoro e quindi una volta che l'avete bilanciato, siate sicuri che anche se non è al centro, è comunque dritto. Detto questo, adesso lo mettiamo qui tranquillo e noi andiamo a ripulire un po' tutti i nostri algeggi che abbiamo lasciato a destra e sinistra. Beh, stavolta il quadro è stato montato, la cornice è finita, l'attaccaglia è stata messa, per cui il quadro è pronto. Adesso non riesce a che portarlo o in galleria o attaccarlo in caso, dove volete, e qui è tutto preparato. Una cosa che abbiamo già detto prima comunque è quella di pesarlo il quadro quando dovete mettere l'attaccaglia, perché utilizzando degli steli che non sono proprio calibrati, nello stesso spessore e larghezza, quindi il rischio è che magari leggermente il bilanciato c'è, quindi pesando un amativo, un cacciaviglio, un chiodo, quello che volete, avrete la certezza di trovare proprio l'equilibrio. Come si dice, a volte utilizzando materiali di scarto si può fare un qualcosa che, insomma, tutto sommato ha una sua grande emozione. In questo caso, il corso di questo lavoro, naturalmente, è pari a zero e quindi buono, no? Quindi non vorreste che augurarvi buon divertimento e alla prossima.